Ha vinto il Nobel, professoressa, e per di più è donna. Una specie di panda che suscita curiosità. Questa sera su Rai 1, in prima serata, un film per la TV, Rita Levi-Montalcini. Ho l'onore e il piacere di avere come ospite la protagonista, Elena Sofia Ricci, che ringrazio. Grazie a voi. Rita Levi-Montalcini è veramente un esempio oggi, in questo momento, anche di emergenza pandemica, per i nostri giovani in modo particolare. Questo film è dedicato a loro e anche vorrei fare una piccola dedica a tutti quei ricercatori, insieme ai medici che si danno da fare in prima linea, ma a quei ricercatori, a chi studia, proprio come tirarci fuori dai guai. Spero che questa donna veramente possa essere un esempio per tanti, per la passione che ha messo nel suo lavoro e per la sua rettitudine e, come dire, anche onestà intellettuale, che sono virtù che si stanno un po' perdendo. Lì ci sono già tutti i risultati di anni di sperimentazione. Zero per il Parkinson, zero per l'Alzheimer. L'ultima inquadratura che vedrete stasera nel film ha coinciso proprio con l'ultima inquadratura. È stato molto emozionante. Era il momento in cui dicevo, ecco, adesso è l'ultimo, e già solo a parlarne mi riviene il lucciconi agli occhi. Rita Levi Montalcini ci ha lasciato a 103 anni e c'è una frase che mi ha colpito molto, che dice, quando il corpo muore, sopravvive quello che hai fatto. Beh, lei sosteneva che la vita non aveva veramente senso, se non dedicandola agli altri. E allora vi aspettiamo questa sera alle 21 e 20, 21 e 30, su Rai 1, grandissimo film di Alberto Ennegrin, che ringrazio, ringrazio la Rai, di Elide Melli che lo ha prodotto, sulla grande professoressa Rita Levi Montalcini.